e abbiamo portato in una via irta di pericoli, piena di energia e avvertiamo primi uccelli 5T, non abbiamo capito come mai ci vogliono in poche parole mi hanno rotto l'uccello, perché avevo già i timpani un pochino deturpati dai miei pappagalli e vi ho portato qui e mi chiederete perché, proprio qui ultime, io vi riportrò e ok, terminiamo qui la puntata, è terminata ancora prima di cominciare non ho parole, il dramma mi attanaia tra virgolette, vabbè intanto avrete potuto notare luoghi dove abito luoghi medievali, molto belli, che ci riportano indietro di millenni, cioè mille anni è un grande momento per chi ama l'antichità e quindi devi evocare vecchi antenati magari, boh, crociati dai, un'altra puntata di Ulke TV, con più energia, più dritti e più potenti di oggi ed anche domani ciao da cool girl yeah tv 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 hadn tv tv tv